E vengono minacciati, vengono minacciati, se di fare questi facciamo questi. Adesso vedi, adesso sono rimasti, hanno bloccato la gente dentro. L'ammenaccia che parla adesso è che sono dentro. E questo di persone a cui si chiama, che hanno anche diretti da protestazione. Dalla manifestazione del sopra, non le hanno anche diretti. Non le hanno anche diretti. Tutta questa pasta, vengono a passo, tutto. Tutti a passo, tutto, tutto. Mila euro di euro, milla euro di euro. Ho preso il mio codice, 124. Tutti i falsi qua. Tutti i falsi qua. Tutto i falsi qua. Questo qua non ha un lavoro, vogliamo capire cosa è questo qua. Un sfruttamento di schiavi. Scusa, se voglio con questa busta qua, se voglio andare a comprare anche un motorino, cosa mi dicono? La manifestazione è stata l'ultima scelta, ma non credo che l'abbiamo lasciata sbagliata. La banca mi dà anche finanziamenti. Faccio due euro al giorno. Quasi 19 anni. Faccio due euro al giorno. E' la TNT come un terzo che dovrà obbligarsi la cooperativa da pagare il giretto nel giretto. Non usa solo un bagno. Vai a guardare dentro e guarda la scoccia dentro. Solo un bagno chiuso. E non è pulito anche. Non è anche pulito. Devi andare a guardare il giretto nel giretto nel giretto nel giretto nel giretto nel giretto. Non è il giretto nel 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 giret